Sindaco, importante appuntamento qui a Vallo, lei da patrone di casa insieme a tutti gli altri amministratori avete ospitato il Presidente della Regione Campania per fare un bilancio delle varie iniziative intraprese in questi anni e dei futuri impegni, quindi una sua valutazione in qualità di primo cittadino e anche di cittadino del Cilento. È stato un incontro importante, istituzionale, molto positivo in cui con la sua solida determinazione e passione il Presidente della Regione Campania ha indicato quelli che sono stati gli impegni maggiori su questo territorio. Noi abbiamo esposto nei vari nostri interventi, interventi di più sindaci, quelle che erano le criticità di questo territorio affinché facessero parte della sua ricca agenda politica adesso che diventerà di nuovo Presidente della Regione Campania. Per cui spero che alcune cose possano essere attenzionate ancora maggiormente rispetto a un recente passato e ripeto trovare soluzioni. Abbiamo posto l'accento innanzitutto sullo spopolamento delle aree interne perché è un problema realmente importante. Gli abbiamo proposto il finanziamento della strada del parco e con molto piacere ho ascoltato le sue parole una promessa che a lotti sarà oggetto di finanziamento da parte della Regione. Questo è un asse importantissimo perché collegherà questa comunità sull'autostrada e svincolerà dall'isolamento le aree interne, i comuni interni. E poi ci consiglierà di avere un collegamento rapido oltre che all'autostrada anche con il Vallo di Diano. È un'opera strategica, noi abbiamo chiesto il finanziamento di quest'opera alla Regione Campania, ci è stato dato il finanziamento per realizzare il progetto. Siamo in questa fase qua, quindi già è importante avere questo tipo di promessa. E poi sbloccare questa situazione della metanizzazione che è diventata un fatto realmente scandaloso. È un qualcosa che realmente non può essere più tollerato da questo territorio. Per cui speriamo, lui ha dato delle promesse, ha detto delle cose molto chiare, ha fatto delle promesse importanti, in cui cercherà di mediare con i ministeri. È assurdo il silenzio dei ministeri. Sono anni che stiamo aspettando la fine dell'istruttoria e l'allargimento di quello che è il finanziamento per realizzare quest'opera importante, che consentirà alle tante famiglie, sono circa 31 mila utenze finali, di avere questo approvvigionamento energetico, vi ripeto, importante, ma anche che consentirà di essere un volano per l'economia territoriale e una risposta, anche se parziale, alla disoccupazione che sempre più aumenta in questo territorio. E poi, infine, abbiamo fatto delle battute sulla situazione del nostro ospedale, della sanità in generale cilentana. Lui ha promesso che verrà appunto a Vallo all'indomani dell'elezione, ha evitato oggi la visita per evitare inutili strumentalizzazioni e polemiche, ha fatto bene a mio avviso, però abbiamo strappato questo impegno, che ha assunto questo impegno a venire di nuovo a Vallo e incontrare gli operatori sanitari. Abbiamo posto alla sua attenzione il problema degli istituti scolastici, della situazione del tribunale, e quindi dell'allargizione della giustizia su questo territorio. Sono una serie di problemi che stanno a cuore alle nostre comunità e spero che possano trovare, vi ripeto, e ne sono sicuro di questo in verità, un impegno da parte del Governatore e della futura giunta regionale.